Il Comune di Teramo è vicino ai cittadini ed è pronto ad aiutare l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale, ma ogni ulteriore ritardo nel dare risposta alle famiglie è intollerabile. E questa la presa di posizione del Sindaco Gianguilo D'Alberto sulla delicata vicenda legata alle case Ater di Via Adamoli e Via Balzarini. Va con forza ribadita la necessità di rispettare la persona, le persone, le famiglie che già vivono e hanno vissuto il dramma del sisma e dopo sette anni, con riferimento a Via Adamoli, festeggiavano il rientro nelle loro abitazioni. Io stesso l'ordinanza di revoca che ho firmato è stata l'ordinanza più importante, anche quella più liberatoria del mio mandato e vedere la condizione di molte abitazioni in quello stato. Sono in particolare due le problematiche in questione. In Via Adamoli i residenti non intendono rientrare per i danni riscontrati agli alloggi dopo la conclusione dei lavori di riparazione, mentre in Via Balzarini un edificio altamente domotizzato gli inquilini contestano le grandi somme da pagare per le spese condominali. Una questione che va avanti da tempo, ingiunzioni di pagamento pesantissime richieste a queste famiglie senza che si chiariscano tutta una serie di aspetti relativi alla tenuta stessa delle utenze, alla divisione, alla compartimentazione delle utenze stesse. Anche su questo aspetto noi chiediamo che si definisca la cosa perché i cittadini stanno pagando conseguenze di poca chiarezza. Da troppo tempo stanno sollevando queste questioni e l'Ater deve intervenire immediatamente. Per i residenti di Via Adamoli non bisognava controllare prima la reale situazione degli appartamenti perché adesso si ritrovano senza il casse a dover investire altre somme per ricomprare tutti i mobili? Normalmente è così, deve essere così. La norma è questa, la regola è questa, i passaggi sono questi. È stata questa, chiamiamola, brutta sorpresa. I cittadini hanno, immagino, fatto verbalizzare tutto in termini di danni a cose e eventuali difformità nella realizzazione anche degli interventi e dei lavori. Mi auguro che siano adottati tutti gli strumenti che la stazione appaltante ha nei confronti di chi ha la responsabilità per ripristinare una condizione di dignità e decoro perché questi cittadini non possono pagare le conseguenze.